Ostia continua a sprofondare, l'ennesima voragine si è aperta all'altezza del civico 30 di Viale del Lido, dove sono presenti numerose attività commerciali e l'ufficio scuole del decimo municipio. La polizia locale ha provveduto a transennare la buca, istituendo il senso di marcia alternato con divieto di sosta su un lato e sul posto sono intervenuti anche i responsabili dell'ufficio tecnico che hanno constatato il danno. Sempre più spesso fa presente il delegato CISL della polizia locale Raffaele Paciocca, gli agenti sono chiamati a svolgere un ruolo emergenziale di supplenza dell'amministrazione municipale nell'impari battaglia per garantire la sicurezza stradale, arrivando a dover fare letteralmente la guardia una voragine. In questo quadro, sostiene il sindacalista, l'abbassamento generalizzato dei limiti di velocità comporta la non secondaria conseguenza dell'impossibilità di vigilanza altrettanto generalizzata sul rispetto di quei limiti, a meno che non si voglia dislocare una pattuglia per ciascuna delle oltre 100 strade interessate dal provvedimento, conclude Paciocca. A riguardo i partiti di opposizione annunciano un corteo di protesta per domani, con partenza alle 15 dal decimo municipio e arrivo in via delle Baleniere. Non può essere questa una soluzione, si legge in una nota, la Raggi è stata un grande blef, solo Romanelle e nessun intervento strutturale.